Nell'era del web, mentre tutto scorre veloce, fermarsi a riflettere con il linguaggio della poesia può servire ad alimentare la cultura. Lo sostiene la presidente del Coricom, Giuditta Lamorte, che ha voluto sostenere l'iniziativa dei ragazzi del circolo di Q dell'Unibus. È un metodo sempre esistito di comunicare, però l'attenzione a questo metodo della comunicazione diventa importante perché vengono coinvolti i ragazzi. E quindi in un'era in cui è tutto digitale, in cui tutto passa sullo smartphone, in un momento in cui è più importante condividere che vivere, senza tempi di riflessione, avere a disposizione uno scritto, avere la possibilità di conoscere ragazzi che attraverso la poesia e non attraverso un post o un'immagine vogliono comunicare il loro pensiero, ritengo che diventi fondamentale proprio per la cultura, per la cultura anche digitale, perché nulla esclude che queste poesie possano arrivare sul web.